In città e che permetterò oggi di condividere con tutti i bambini e con la fondazione QCTM questo interiore momento. Ringrazio per questo la fondazione Canapani, ringrazio Anni, ringrazio voi del centro perché con la UISP abbiamo condiviso e continueremo a condividere percorsi informativi, di conoscenza perché attraverso la pratica sportiva si può racchiugere l'affermazione delle persone ma soprattutto l'affermazione dei diritti umani e dell'attività di un Ringrazio particolarmente attraverso Enrico tutta l'organizzazione CTM, ringrazio Carlo responsabile delle politiche internazionali e Massimo che hanno aperto fin dall'inizio questo rapporto con la fondazione Canapani e che permette oggi di riaffermare la dignità e l'opportunità per tutti i bambini di questa comunità di poter continuare a crescere avendo condiviso anche i percorsi formativi, avendo fatto anche delle attività di training in questa realtà. Grazie ancora a tutti e continueremo ancora adesso.